Proseguono i rinnovi delle cariche nelle categorie dell'area al maestranza per il 2023. La settimana scorsa infatti, e cioè lunedì 13 febbraio, l'Associazione Unione Muratori si è riunita in assemblea per procedere all'elezione in vista delle prossime processioni. La seduta, preseduta dal presidente della categoria Gianni Taibbi, nonché gran cerimoniere dell'area al maestranza, ha visto la nomina del nuovo portabandiere, il 64enne Filippo Palermo. Ha segnate anche le cariche di alabardiere al ventenne Michele Sanicola e portabaldacchino al 45enne Angelo Pesce. Qualche giorno dopo, anche la categoria Carpentieri Ferraioli ha proceduto all'elezione delle nuove cariche. In questo caso, l'assemblea del 15 febbraio è stata preseduta dal presidente Giuseppe Tuminelli, attuale presidente anche dell'Associazione Real Mestranza. Per il 2023 dunque, sarà il maestro Michele Infantino di 67 anni il portabandiere della categoria, il giovane 15enne Andrea Santoro, che sfida in processione da quando ne aveva 5, sarà l'alabardiere, mentre il 25enne Giuseppe Montalbano il portabaldacchino.